Eccoci con Ramiro Finco, tre mete e man of the match di questa sfida. Dopo un primo tempo giocato alla pari, un grande rugby viadana nel secondo tempo. Sì, sappiamo che la partita sarebbe dura. Per noi, se noi non vincevamo, sappiamo che la stagione era più o meno finita. Sappiamo che dovevamo giocare tanto e portare questa partita, questi cinque punti a casa. Allora, al mezzotempo abbiamo detto che la partita c'era, che dovevamo fare quello che avevamo allenato in settimana e l'abbiamo fatto. Grande fiducia in campo, soprattutto nel secondo tempo. Qual è l'obiettivo adesso? Trovare continuità in questo girone di ritorno per il viadana? Sì, l'obiettivo del rugby viadana è sempre rimanere dentro i primi quattro perché avevamo una squadra, secondo me, quando abbiamo cominciato questa stagione si diceva che avevamo una squadra troppo giovane, ma secondo me abbiamo una squadra fortissima. Anche se è giovane, secondo me abbiamo i giocatori, tanti che hanno esperienza e tanti che sono giovani, che hanno tanta voglia di giocare, che secondo me si meschia quelle due cose e si forma un spirito di squadra che è fortissimo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie mille.